Nuova postazione vecchia di tardi, non è colpa mia, è colpa del corriere. Comunque buonasera a tutti, buon pomeriggio e benvenuti in un nuovo live. Ma come buonasera? Sono le 16 di pomeriggio. Questa è una cosa molto dibattuta, specialmente molto dibattuta dal sottoscritto, un soliloquio praticamente, nelle live del sabato, perché non so mai come salutarvi. Perché dalle mie parti, dopo l'una del pomeriggio, è già sera, già si dice buonasera. Quindi do la buonasera, però poi mi correggo, faccio buongiorno, ma buongiorno non è troppo tardi, quindi dico buon pomeriggio.